Siamo in diretta con il presidente Luca Zaia, 83esima edizione della Sagra del Pesce, un piacere naturalmente averla nella nostra Chioggia che è la capitale della pesca e lei naturalmente è sempre molto sensibile, l'abbiamo sentita prima a parlare dei pescatori e di questo momento anche delicato, ma oggi è una giornata di feste. Beh insomma quando si parla del Sagra del Pesce non si può non parlare dei pescatori, stiamo parlando di una grande marineria, se non ci fossero stati i pescatori, l'identità e la tradizione della pesca in questi luoghi non esisterebbe neanche Chioggia perché poi questa è la verità, quindi i pescatori dobbiamo riconoscere questo, poi come al solito la storia non è acqua, quindi il fatto che ci sia l'83esima Sagra del Pesce è la prova provata che qui si parla di pesce, si vive di pesce ed è una grande marineria, questo assolutamente sì, è la ripartenza e penso che siamo partiti col piede giusto. Perché se il buongiorno si vede al mattino qua è pieno di gente, quindi direi di invitare tutti a venire a Chioggia per la Sagra del Pesce. Colori, sapori, l'arte di stare bene insieme, l'arte della nostra gente. Sì, ma anche l'arte del volontariato, ho visto un sacco di gruppi di ragazzi di volontariato, di stand del volontariato, di operatori, direi che c'è un mix giusto tra quello che è l'offerta privata e quello che è l'offerta delle associazioni, quindi poi una persona viene qui e decide se vuole andare nello stand delle associazioni, del privato, nei ristoranti, insomma è una festa di popolo che porterà migliaia di persone qui a Chioggia. Quando è venuto a presentare il libro ho chiesto due parole per quel giovanotto che al momento è con il microfono e con il telefono appunto in mano per coordinare tutto, il nostro sindaco Mauro Armelao. Beh, se lui non ci fosse bisogno di inventarlo come la panda. Grazie Presidente. Grazie. Grazie.